Sante Evaristo Si ritiene che lo stesso Sacro Collegio dei Cardinali ebbe origine dalle riforme volute da Papa Evaristo Il periodo di pace vissuto da Evaristo fa supporre che non sia stato martirizzato, al contrario di quanto suggerisce la tradizione Morì il 26 ottobre 105 a Roma. Si invoca per guarire dai mali della gula Grazie